Allora, grazie ancora a tutti per la partecipazione al nuovo appuntamento che come osservatorio l'Unione Europea abbiamo promosso una serie di ragionamenti sul cammino che l'Unione Europea sta facendo sia a livello istituzionale sia a tutti i livelli su vari campi. La scorsa settimana, l'appuntamento era sulla militarizzazione, sull'uso di questa strategia militare per la costruzione del nuovo modello di Comunità Europea, di Unione Europea. Ed oggi invece affrontiamo un tema che attraversa anche lo scenario globale che è la transizione digitale, come questa transizione digitale sta influenzando non soltanto la vita di tutti noi che siamo qui collegati attraverso digitale, ma anche come la guerra stessa viene attraversata da questa transizione. A parte l'intelligenza artificiale adoperata per costruire nuovi armamenti, nuovi sistemi d'arma, come vengono chiamati, anche il sistema di propaganda, il sistema di controllo che c'è dietro questa questione della guerra, investe chiaramente il digitale, così come chiaramente e primariamente la questione economica che il digitale comporta. Come Transform Italia abbiamo già affrontato questi temi nei mesi passati, quindi trovate una vasta bibliografia, articoli pubblicati già su questi temi, principalmente da Roberto Rosso, che oggi farà questa presentazione, ma anche da altri, qui con noi anche Alessandro Scastellati, così come Franco Ferrari e via dicendo. Oggi lo affrontiamo appunto dando prima di tutto la parola a Roberto Rosso e poi interloquire tra di noi e magari porre anche delle questioni e ragionare un po' come l'Unione Europea si stia attrezzando, sia attrezzata o quale potrebbe essere un'alternativa a questo progetto. sul digitale, diciamo, io personalmente con Marco Berlinguer, con altri compagni abbiamo ragionato già dall'inizio, diciamo, dalla fondazione quasi di Transform e sulle modalità con cui queste relazioni venivano cambiate e come la costruzione di questo spazio avesse anche delle caratteristiche di promozione di alternative, ricordo l'open source, ricordo strumenti di partecipazione anche alla costruzione della digitale. Certo è che, diciamo, abbiamo visto l'evoluzione del digitale in forme prettamente capitalistiche, addirittura la sussunzione dell'open source da parte delle maggiori compagnie di software, è diventato un modello attraverso cui c'è una maggiore accumulazione di dati e quindi di risorse da parte delle grandi compagnie. Al contrario, non si è sviluppato un vero movimento, diciamo, orizzontale che potesse rendere invece questo terreno, diciamo, un terreno di scontro alla pari. Ma queste considerazioni le riportiamo, diciamo, come scenario generale. Adesso do invece la parola a Roberto per la sua introduzione e poi ci proporremo, penso, delle questioni a tutti voi che partecipate all'iniziativa. Grazie ancora. Roberto. Scusate, c'è un momento di incertezza. No, allora, innanzitutto, buonasera a tutti e diciamo che, visto il tema che è ovviamente pervasivo, nel senso che riguarda tutte le dimensioni sociali, i rapporti sociali, eccetera, la mia relazione vuole essere più che altro uno stimolo, anche perché siccome viviamo già in un mondo, siamo bombardati dall'informazione, noi come persone e come ambito abbiamo una buona capacità di attenzione rispetto alla media, però anche dato lo strumento, credo sia abbastanza inutile rovesciare una mole di informazioni, mentre invece vale la pena usare questo momento per istruire un confronto, che credo sia quello che serve, intendendo, tra l'altro, il problema della transizione digitale come il problema più generale è ampiamente discusso dai tempi, da quando si discute di sistema capitalistico, di quello che è l'innovazione, eccetera. Qualcuno ha in mente tutto il dibattito sulla sussunzione, i Grundrisse, queste cose, cioè un dibattito sull'incorporazione del capitale, della capacità di cooperazione sociale. Indubbiamente il digitale è innanzitutto questo dispositivo globale che permette di incorporare a livello di macchinario sociale, inteso nella forma più ampia del termine, tutte le forme di cooperazione e comunicazione sociale. C'è soprattutto dal secolo scorso un dibattito appunto sul ruolo dell'innovazione e dello sviluppo capitalistico e mi spiace che oggi non ci sia screpanti, per esempio, perché indubbiamente c'è la necessità di avere una visione ampia dei processi storici, economici e sociali dentro cui si colloca la rivoluzione digitale e che la rivoluzione digitale genera. Quindi sostanzialmente il digitale è un fattore abilitante di ogni innovazione sociale, di ogni innovazione tecnologica. Per esempio, quello che è successo con la pandemia, i tempi con i quali sono stati realizzati i vaccini, a parte il fatto che alcune tecnologie come la tecnologia dell'RNA messaggero, eccetera, fossero alcune decine d'anni che venivano sperimentate, questo processo così veloce di costruzione dei vaccini non sarebbe stato possibile senza avere un apparato produttivo in cui la gestione dell'informazione, il controllo minuzioso dei processi non fosse avvenuto attraverso dispositivi digitali. Quindi praticamente chiunque operi all'interno di una qualsiasi filiera produttiva piuttosto che in un qualsiasi ambito sociale ha a che fare col digitale. Diciamo negli ultimi dieci anni soprattutto, diciamo negli ultimi vent'anni di questo secolo e all'inizio e negli ultimi dieci anni la curva dell'innovazione indubbiamente ha assunto un andamento verticale. Questo dato, diciamo che tra l'altro parlando di ciclo economico, all'inizio del secolo noi abbiamo avuto la crisi delle dot com, cioè c'è stato attorno al 2001 una prima momento di sistemazione del mercato, del sistema delle società che operavano nel digitale. Alcune sono scomparse, alcune hanno iniziato allora e oggi sono tra i protagonisti di questo mercato. Diciamo che oggi le cosiddette GAFAM, quindi Google, Facebook, Apple, Microsoft eccetera, sono e Amazon rappresentano per esempio rispetto allo standard P500, oscillano attorno al 20% del mercato azionario, per capirsi. E sappiamo quanto il loro andamento sia in grado di influenzare l'andamento della borsa. Parlando di borsa, per dire, noi sappiamo benissimo che attorno, se non ricordo male, attorno al 40% degli scambi in borsa avvengono a partire da algoritmi, algoritmi che ovviamente lavorano a partire da i cosiddetti big data, quindi da un numero eccezionale di informazioni acquisite storicamente nelle borse e giocano su tempi ridottissimi, quindi frazioni di secondo e andamenti altrettanto frazionari. Tra l'altro questo tipo di algoritmi, per quanto negli anni si perfezionino, ovviamente in realtà sono degli algoritmi che a parte ogni tanto gli errori di qualche operatore favoriscono in realtà la volatilità dei mercati, anzi favoriscono quello che possiamo chiamare un'irrazionalità del mercato finanziario. Da questo punto di vista io ho usato un termine razionalità e introduco un po' un, come dire, un quesito, cioè questo surplus di razionalità artificiale, oggi si parla di intelligenza artificiale nelle sue varie forme e sviluppi tecnologici, ma anche se dobbiamo dire che quello che viene chiamato intelligenza artificiale ha sempre delle applicazioni ben limitate, quindi non ha nulla delle caratteristiche che noi attribuiamo al termine di intelligenza, ma questo richiederebbe, se vogliamo, un'analisi che ha a che fare anche con i paradigmi della scienza, la razionalità, eccetera. Ma ciò che intendo sottolineare è questo aspetto, la pervasività e lo sviluppo del dispositivo digitale globale non ha aggiunto razionalità al sistema capitalistico complessivo. Questo è uno dei termini fondamentali. A parte che non esiste, essendo un elemento interno, non è un osservatore esterno lo sguardo di Dio che dall'esterno governa il sistema, è parte del sistema e l'aumento di complessità del sistema digitale, è parte della complessità del sistema, è un momento autoriflessivo, il sistema riflette su se stesso, ma ovviamente con i limiti stessi e gli obiettivi del sistema. Da questo punto di vista il digitale ovviamente nelle varie componenti, che si esprima poi nelle varie funzioni della formazione sociale, in buona sostanza non si limita a fotografare, ma ovviamente obbedisce alle leggi fondamentali del sistema. Dal mio punto di vista sviluppa una logica neodarwinista, vale a dire, se vogliamo, a seconda e vive dentro la competizione e i conflitti che animano il sistema e va esprimendo poi una logica di concentrazione del potere e dell'informazione, non fa che aumentare le diseguaglianze e aumentare le contraddizioni e il livello di scontro. Se noi andiamo a vedere da questo punto di vista l'uso del digitale nei sistemi militari e l'evoluzione, tra l'altro anche del confronto nella cosiddetta guerra ibrida, a tutti i livelli ne abbiamo una dimostrazione. Questo è un elemento fondamentale perché per la sua potenza e il fatto di parlare di informazione e l'aspetto ideologico del digitale è sempre stato un elemento fondamentale. Da una parte la visione libertaria alla sua nascita, cioè le potenzialità di liberazione in quella fase in cui in buona sostanza la creazione del software era un qualcosa che non era ancora diventato, diventato un sistema, un sistema industriale come noi lo conosciamo oggi. Tenete presente che all'origine il software era visto come un appendice dell'hardware e quindi lo sviluppo del software era un qualcosa di estremamente libero. Ma qui è inutile di fare la storia, però diciamo l'ideologia libertaria che ancora pervade alcuni soggetti che peraltro sono soggetti che hanno accumulato tale maggiori ricchezze al mondo, beh questa ideologia libertaria ovviamente è poi precipitata nelle logiche del neoliberalismo e che noi ben conosciamo. Se parliamo di Europa, l'Europa, io un attimo condivido, se ce la faccio lo schermo, condividi schermo, vediamo cosa riesco a condividere. condividi. No, no, non ce l'ho fatta. Ho sbagliato. Stai condividendo? Io lo vedo. Sì, però vedete Zoom? No, vediamo norme e strategie europee. Ah, perfetto, perfetto, perché io non capivo quanto. Allora, norme e strategie europee. Io qui, senza entrare più di tanto nel merito di queste cose, a partire dalla proposta della Commissione, sono stati prodotti sostanzialmente due che sono il Digital Service Act, che è stato poi, su cui è stato trovato un accordo il 23 aprile di quest'anno col Parlamento, il Digital Market Act. Poi è stato fatto il regolamento, si sta discutendo del regolamento sull'intelligenza artificiale e si parla, diciamo, poi della bussola digitale, c'è sostanzialmente un discorso sulla prospettiva del sviluppo digitale dell'Europa. Sotto ho messo un link che sono le priorità, una pagina del Parlamento europeo sulla trasformazione digitale in Europa. Diciamo che, partendo dall'ultima osservazione, il problema fondamentale dell'Europa non è tanto la capacità di regolare. Indubbiamente l'Europa tende a regolare il mercato digitale e l'uso delle sue tecnologie in maniera molto più cogente rispetto a quello che succede negli Stati Uniti e secondo delle logiche ben diverse da quelle che succedono in Cina, ovviamente. Qui faccio una parentesi. La potenza delle società digitali è tale, in Europa e negli Stati Uniti, o in Cina, dove in Cina ovviamente i protagonisti sono innanzitutto altre società, soprattutto cinesi. Il potere di queste società, che è il potere finanziario e potere anche sociale, proprio perché influenzano e basano la propria ricchezza sulla capacità di dare forma alle relazioni sociali tra centinaia di milioni e miliardi di individui, quindi due aspetti finanziario e sociale, è tale da aver creato delle problematiche di conflitto col potere degli Stati. Potremmo dire che il governo del digitale ha a che fare col monopolio della forza, intendendo il monopolio della forza in senso lato da parte dello Stato, nel senso che lo Stato esercita la forza e regola la società. Le grandi società del digitale sono concorrenti oramai rispetto allo Stato, per esempio rispetto anche all'esprimere logiche di raccolta del consenso, di controllo dei comportamenti, eccetera. Il problema dell'Europa è quello della sovranità digitale. Dicevo, se è vero che l'Europa ha questa per sua natura una sua capacità di governo del mercato maggiore di quella che può essere quella che viene espressa negli Stati Uniti e ovviamente più democratica di quella che viene espressa in Cina, tuttavia il suo problema è proprio la sovranità digitale perché le grandi società del digitale non hanno sede in Europa. Questo è un problema fondamentale. Il Digital Market Act, di cui praticamente dicendolo, citando quella che è una comunicazione della commissione, in buona sostanza interviene sui cosiddetti gatekeeper, cioè sostanzialmente i gatekeeper sono coloro i quali controllano i punti di passaggio dell'informazione digitale e quindi sono coloro i quali hanno innanzitutto le cosiddette GAFAM a livello occidentale e sono coloro le società, i soggetti economici e tecnologici che sono in grado, controllando direttamente i flussi o le tecnologie che permettono di controllare i flussi che sono in grado di determinare l'andamento generale del processo di circolazione e condivisione dell'informazione. Di questo si occupa il Digital Market Act e quindi si affide ovviamente il problema di questo tipo di regolamenti è quello poi della sua applicabilità e di quanto in realtà si oppone alla loro capacità operativa, quelli che sono i principi fondamentali dei trattati europei, cioè il primato del mercato e le pressioni che le lobby fanno da questo punto di vista. Il Digital Service Act invece ovviamente riguarda proprio la regolazione dei rapporti, come vengono erogati sostanzialmente questi servizi e tutta la loro articolazione in termini di obblighi da parte degli operatori, degli erogatori dei servizi e dei diritti da parte dei cittadini, quindi trasparenza eccetera eccetera. Quindi come si dice promuovono crescita, competitività all'interno del mercato unico. Ovviamente anche qui ci sono stati anche periodi di consultazione su questo tipo di regolamenti e da parte degli operatori sostanzialmente si è teso a dire dovete definire bene il campo di applicazione, limitarlo e fare in modo che questo tipo di regolamenti non limiti la crescita, la crescita di soggetti economici europei che operano in questo mercato partendo dal fatto appunto che l'Europa da questo punto di vista è sostanzialmente un soggetto colonizzato. In Europa una delle società più importanti è la SAP tedesca che opera a livello di impresa ma non ha nulla a che fare con quello che sono le società che hanno sede negli Stati Uniti. Allora diciamo l'altro aspetto è quello della guerra. Anche qui il digitale è sempre di più un elemento fondamentale nello sviluppo della guerra non solo perché quello che noi intentiamo come guerra a partire dalla definizione di guerra ibrida rispetto alla quale tra l'altro uno dei teorici è il generale Gerasimov o Gerasimov che dir si voglia è russo, uno dei più grandi esperti da questo punto di vista perché ovviamente diciamo a fianco prima e dopo il conflitto militare vero e proprio ci sta la capacità di influenzare il comportamento dell'avversario del nemico se è già diventato nemico vero e proprio e di usare la rete informativa per coordinare i propri apparati. Nel 2015 negli Stati Uniti è stata istituita la Defense Innovation Unit con l'obiettivo di sostanzialmente coordinare l'aspetto diciamo l'aspetto del statale sostanzialmente il Pentagono con tutti i soggetti che possono contribuire all'innovazione tecnologica in campo militare dove questi soggetti non sono visti solo in quanto operano tradizionalmente rispetto al settore militare ma tutti i soggetti che contribuiscono all'innovazione tecnologica in quanto è praticamente automatico il passaggio dell'innovazione tecnologica dal civile al militare e viceversa a partire tra l'altro dal fatto che il problema appunto si estende non solo al conoscere ed eventualmente destabilizzare quello che è l'apparato militare in senso stretto del nemico o del potenziale o attuale che sia ma proprio conoscere e destabilizzare la formazione sociale complessiva vista come avversario laddove ovviamente il confronto è militare economico sociale tecnologico a tutti i livelli. Negli Stati Uniti hanno poi definito per quanto riguarda l'esercito l'Herm Unified Network Plan cioè la capacità di sostanzialmente definire dei multi domain operations cioè di poter coordinare in tempo reale tutti i terreni di scontro in cui si viene a trovare il settore militare. Ovviamente con la necessità tra l'altro di definire il comportamento non solo delle forze armate nazionali ma delle coalizioni di agire non solo in termini di conflitto aperto ma anche in termini di crisi eccetera. e tra l'altro a tutti i livelli come si dice a livello del mare, del terreno, dello spazio, dell'aria e a livello informatico. Io cito qui tre articoli che avevo fatto sul digitale e diciamo sul problema dell'uso del digitale a livello militare. L'ultimo articolo che sarebbe il primo uscito in termini militari in termini di tempo analizza quella che è la situazione europea in particolare se non ricordo male l'articolo 42 del Trattato di Mastiche che parla proprio dell'Europa dal punto di vista della difesa che è uno degli articoli più confusi e incomprensibili che esistano e che tra l'altro in maniera molto chiara in pratica ci dice che viene subordinata quella che è l'attività dell'Unione Europea a quella che è l'uso della NATO. Io parlo di guerra dei trent'anni che tra l'altro è stato un titolo che è stato utilizzato da Transform molto tempo prima che lo usassi io definendo quella che è il confronto soprattutto tra Cina e Stati Uniti cioè il confronto strategico tra quelle che sono le potenze a tutti i livelli che si confrontano praticamente negli ultimi dieci anni e nei prossimi vent'anni. Tra l'altro questo discorso dei trent'anni è una periodizzazione che fa riferimento a quello che è un contesto fondamentale entro il quale si svolge il confronto strategico e dentro cui opera il dispositivo digitale globale e cioè il problema del cambiamento climatico che ovviamente la nota di fondo, l'orizzonte catastrofico è una determinante inevitabile di tutti i processi di trasformazione sociale definisce le soglie con le quali i processi di trasformazione sociale si devono confrontare. Rispetto a quel discorso che facevo all'inizio, cioè quanto il dispositivo digitale globale sia un elemento di razionalizzazione del processo di trasformazione sociale, bene, il cambiamento climatico che viene affrontato a partire da un uso sempre più avanzato delle tecnologie perché quella che è il cuore, cioè la transizione energetica necessita di una, in buona sostanza necessita di un uso crescente di tecnologie che sono sostanzialmente poi guidate e regolate e coordinate dalle tecnologie digitali. Ebbene, in realtà è anche l'analisi del cambiamento climatico e della crisi degli ecosistemi richiede una capacità enorme di trattamento delle informazioni, una capacità di produzione di modelli, una capacità di trattamento dei dati a livello, diciamo, in tempo reale, quindi avendo per esempio una mappa sempre più fine di osservazione dei fenomeni meteorologici e una modellizzazione sempre più complessa del futuro sviluppo del clima a partire dalle soglie che possono essere raggiunte in base alla trasformazione tecnologica e economica. Ebbene, quindi questo ventennio-trentennio che ci troviamo di fronte è quello in cui, come dire, si risolverà in un modo o nell'altro quello che è il confronto strategico tra Russia e, cioè, pardon, alla Russia ci si arriva tra Cina e Stati Uniti e tra quella che è poi il confronto tra la società e il clima. Quindi, diciamo, noi siamo all'interno di una fase in cui, come è stato detto più volte, le varie crisi che noi attraversiamo sono sostanzialmente intrecciate. Beh, poi da questo punto di vista sull'intreccio delle crisi intervengo. Il digitale guerra, ovviamente la Cina a sua volta è protagonista di questa che è la digitalizzazione della guerra. In inglese c'è l'intelligentizzazione, c'è ovviamente una traduzione da parte di un think tank americano del termine cinese che io non so leggere, mi piacerebbe tanto, ma non sono più in grado, non ho più la capacità di mettermi a studiare le lingue, in particolare il cinese. Quindi, in sostanzialmente, una trasformazione di tutta quanta, l'warfare, quindi il sistema tecnologico di guerra attraverso intelligenza artificiale e automazione. In sostanza, i cinesi parlano di un confronto di sistema contro sistema. Quindi, in buona sostanza, anche il confronto sui singoli terreni di battaglia e anche il confronto delle singole unità è sempre visto con un uso, ovviamente, di alto utilizzo di informazione. Però le singole unità, in buona sostanza, vengono viste come integrate nel sistema, anche se poi il sistema può prevedere il fatto che la singola unità perde i contatti. Ma quello fa parte della guerra. Poi, in realtà, quello fa parte della capacità di riassumere a livello di sistema ciò che è controllabile e che non è controllabile, e analizzare, in buona sostanza, quelle che sono le possibili evoluzioni. In buona sostanza, la direzione dell'esercito di liberazione cinese, il People Liberation Army, in sostanza, il Pentagono cinese, parla di confronto cognitivo, parla addirittura di un vantaggio psicologico che viene raggiunto a partire dalla capacità di anticipare le mosse del nemico e di avere una superiorità dal punto di vista della capacità di prevedere, di utilizzare in maniera ottimale le forze sul terreno. Diciamo che da questo punto di vista, io qui cito un articolo di una delle tante riviste che io rispetto non leggo il cinese, se non ciò che è tradotto sostanzialmente in inglese. Però se nella nostra rete di collaboratori qualcuno sa il cinese sarà ben accolto perché leggere in tempo reale ovviamente le fonti è assolutamente necessario. Ecco, io credo che da questo punto di vista ovviamente anche la Russia è parte di questo sistema. In realtà la Russia, come scrivo anche in un articolo uscito sul numero di Transform uscito oggi, gioca su questo piano, ovviamente lavora a livello di propaganda e via dicendo, anche se a parte l'uso dei missili che sta utilizzando in questo momento sul piano del confronto diretto ha usato delle strategie abbastanza tradizionali in termini di uso, per esempio, delle forze corazzate, eccetera. Dal punto di vista delle nuove tecnologie, la Russia ha prodotto un nuovo carro armato che non abbiamo visto, che è fortemente digitalizzato, ha un equipaggio più ridotto degli altri. Non ne ho fatto uno studio, non è poi la mia passione, ma insomma uno studio, però una serie di informazioni per gli appassionati del genere ci sono. Dovrebbe averne prodotti, sono un po' in ritardo, 150-200 esemplari, non sono arrivati alla produzione delle migliaia di unità che sono necessarie, che da quanto pare non li hanno portati sul terreno ucraino perché nel campo di battaglia, perché per come si sono mossi probabilmente glieli facevano fuori, con un po' di missili anticarro, in ogni caso diciamo che in realtà lo sforzo di digitalizzazione dell'economia russa è in corso, è in corso uno sforzo, io ho scritto, ho fatto un articolo oggi che sono degli appunti perché la tematica è gigantesca, io non ho una competenza tale da produrre uno studio sistematico, ci sono evidentemente osservatori e studiosi con ben altra competenza, però mi interessava, vista la situazione, fare alcune osservazioni. Il processo di digitalizzazione dell'economia russa è in corso, ci sono una serie, dal 2015 si sta sviluppando, negli ultimi 5-7 anni sono stati messi in atto una serie di programmi governativi che tendono a far fare un salto a quella che è un'economia oggi ancora fortemente dipendente da quella che sono i fornitori esteri. Ovviamente il rapporto con la Cina che diventa sempre più importante nelle relazioni strategiche e ad ogni livello sarà quello in cui si esprimerà e in questo momento i russi importano sostanzialmente tecnologia anche se tendono a fare un salto di qualità. Quando parliamo di sicurezza, in realtà dobbiamo parlare anche, quando parlavamo anche di guerra ibrida, il problema della sicurezza interna e della sorveglianza è fondamentale. Le tecnologie di riconoscimento facciale e di riconoscimento biometrico sono quelle più utilizzate, si sono fortemente sviluppate negli ultimi anni, sia negli Stati Uniti che in Cina, e ovviamente si dice che negli Stati Uniti e nelle nazioni occidentali queste tecnologie sono state utilizzate soprattutto nelle strategie cosiddette antiterrorismo, in realtà poi sono state utilizzate in maniera molto vasta per il controllo, per diverse forme di controllo sociale e diciamo ci sono diverse campagne, io ho citato qui il link a una campagna che tende a limitare l'uso delle tecnologie biometriche, quindi il riconoscimento facciale, il cederale, tutte le tecnologie che permettono di riconoscere una persona per come è fatta, per come si muove, per come parla, oltre che come è fatta la sua faccia, negli ambienti più diversificati. In particolare c'è stato in Francia un pronunciamento del Consiglio di Stato che nella forma teoricamente dall'anno scorso doveva limitare l'uso di queste tecnologie, in realtà sostanzialmente permette l'accumulo di dati, perché poi ovviamente queste tecnologie sono tanto più efficaci quanto più operando in tempo reale possono confrontarsi con uno storico di informazioni. Questo è comprensibile e l'uso di queste tecnologie è fortemente limitato nel momento in cui io queste informazioni che ne sono dopo un giorno o un mese, io queste informazioni le debbo buttare via. Poi in buona sostanza tutte le tecnologie digitali oggi si basano sul fatto di poter analizzare i cosiddetti big data. Il termine big data ovviamente è venuto in uso da quando in buona sostanza il digitale pervasivo, cioè le nostre società sono piene di sensori, cioè in buona sostanza vengono registrati dati su qualsiasi aspetto della vita sociale. Per profilarle, per trasformare dei dati in informazioni utili, leggibili, utilizzabili, bisogna avere poi algoritmi, da qui l'uso poi della cosiddetta intelligenza artificiale, il machine learning, il deep learning, le reti neurali e quant'altro, cioè diverse tecnologie che in ogni caso sono in grado di estrarre in buona sostanza queste informazioni. Il confine tra l'uso... Devo andare a chiudere. Devo andare a chiudere. In buona sostanza l'uso di queste tecnologie è dal punto di vista civile e della sicurezza sono, io cito qui l'uso, il web service marketplace di Amazon che praticamente mette a disposizione le tecnologie sviluppate da Amazon per tutti. L'ultima parte che è ovviamente fondamentale è quello del lavoro dove ci sono una serie di studi che poi metterò a disposizione ovviamente con un post sulla pagina di Facebook di Transop e in prossimi articoli ci sono degli studi sia sulla robotizzazione e l'automazione che l'intelligenza artificiale dove l'uso dell'intelligenza artificiale per i big data è enorme. L'impatto diretto dell'intelligenza artificiale come sostitutivo della forza lavoro non è ancora così vasto anche se indubbiamente in ogni caso sostitutivo riduce più lavoro di quello che genera mentre invece l'impatto dell'automatizzazione e della robotizzazione come ben sappiamo è fortissimo e ovviamente non può essere trattato, può essere trattato in modo settoriale, in modo nazionale proprio perché in realtà l'impatto di questo tipo di tecnologia ha a che fare con il complesso della formazione sociale laddove come dire l'uso del lavoro sottopagato può essere competitivo con quello che è il lavoro con l'automatizzazione molto semplicemente volevo dirvi che l'uso però dell'intelligenza nei big data richiede il lavoro del lavoro di mappatura cioè se io devo estrarre dell'informazione da una fotografia devo metterci delle parole chiave così come noi siamo abituati ad avere le parole chiave sotto gli articoli questo lavoro, il fatto che ci siano delle parole chiave in un'immagine, in un film, in qualsiasi altro da informazione digitale aiuta poi l'algoritmo a trattarlo, a ricavarne dell'informazione questo lavoro viene fatto da dei poveracci ecco per esempio questo lavoro viene fatto per esempio in Venezuela viene fatto in Venezuela dove dove è quando quando di forma quando anche quando c'era adesso dove c'è il massimo del bando verso l'economia venezuelana in 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 slam attorno a Nairobi dove voi poi magari trovate un edificio collegato con il computer dove dei ragazzi vanno a fare questo lavoro e c'è per esempio in India ma per esempio da questo punto di vista c'è proprio un dispositivo digitale di Amazon che permette di fare questo tipo di lavoro quindi in realtà ci sono sostanzialmente degli da questo punto di vista ci sono la cosa buona tra virgolette è che in alcuni settori le società che sviluppano questo lavoro danno una certa stabilità e un buon salario ai lavoratori che stanno in questo settore pare che i lavoratori venezuelani fossero trattati abbastanza bene quindi in realtà c'è questo doppio aspetto nel senso che i limiti dell'intelligenza artificiale su questo potremmo fare una una trasmissione andando oltre quella che è l'ideologia viene proprio testimoniata dal fatto che senza il lavoro certosino di centinaia di migliaia di esseri umani che che hanno la capacità di mappare l'informazione l'intelligenza artificiale incontrerebbe dei limiti assolutamente insuperabili e qui io la finisco grazie 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 roberto e adesso penso che devi togliere la divisione dello schermo roberto posso dire una cosa roberto prego 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 c'era dopo io devo c'è una riunione fra dieci minuti con i compagni di pisa che stiamo studiando per voi sapete che a pisa voglio avere la base militare e così via ciò con gli avvocati e con i comitati di là per poter capire come impostare questa questa eventuale ricorso che è complicato perché mi dicevano gli avvocati lì c'è il coso militare perciò io sono interessato mi sono collegato mi dispiace che come sono entrato così devo andare via ma voi immaginerete cosa si è un tema molto importante che poi noi come associazione ambientalista ci teniamo molti ma come compagni mentre tutti quanti questa questione della base di pisa è una cosa abbastanza grossa perciò do la mia adesione il mio interesse sto con voi e perdonate ma devo mollarvi perché c'ho questa riunione con i compagni con i comitati di pisa sarà interessante pure intrecciare questo vedete se avete qualche hacker da quelle parti potreste avere ricavare qualche utile informazione sai non lo so perché io non sono di quella parte ti posso garantire io sono napoletana napoli fa tutto coso meno che noi facciamo bravi su meno voglia che però la questione di pisa ma lo dico moda da vecchio pacifista penso come tutti quanti noi è inquietante perché c'è un decreto addirittura mi raccontavano la maria rosaria marelle che forse roberto e i due roberti si ricorderanno che mi sta dando una mano su questa cosa qui che c'è il coso militare che non si può fare il corso noi dobbiamo cercarlo di fare come questione di imbatto ambientale così è una cosa molto comunicata però devo dirti la verità fa veramente male sentire che noi prendiamo i soldi del pnr per ampliare le basi militari devo dire la verità alla faccia della questione di rinnovamenti energetico ma c'è tutte queste cose belle che ci ha raccontato il nostro premier poi invece una parte dei soldi prendiamo perché dobbiamo aumentare le basi così possiamo ospitare più armi più carri armati più nave vergognoso perciò chiedo scusa a san roberto perdonami tienimi sempre presente tu l'ho visto che sei bravo e ci vediamo la prossima riunione grazie ragazzi grazie a te e come come ha detto roberto digitale è un elemento diciamo di trasversalità di di temi e quindi le questioni che solleva sono enormi e vanno in tutte le direzioni io se ci sono domande o interventi le raccolgo fatevi avanti mi sembra che la questione della sovranità digitale è una delle questioni centrali per la costruzione di un sistema diciamo europeo e l'incapacità di avere un modello prima di tutto sociale che sia svincolato dal modello di mercato esistente quindi che metta in primo primo luogo la democrazia la partecipazione e la realizzazione diciamo del di quello che è stata l'europa cioè la capacità di mettere gli interessi sociali eh prima degli interessi economici mi sembra che sia una cosa irrisolta e quindi questo eh anche come transform europa stiamo lavorando c'è un progetto eh dei compagni tipo demos eh su su questo tema eh anche questo verrà messo a disposizione diciamo di chi segue transform lo metto anche qua per come l'osservatorio ho visto roberto musacchi ho alzato la mano no deve aprire il microfono sono collegato dal telefonino perché il computer è occupato io penso che dobbiamo riuscire a costruire un po' di sinergia sul nostro lavoro insomma no lato del progetto ripodemos e roberto credo che dobbiamo intrecciare con il lavoro che stiamo facendo con riccardo petrella sulla questione della conoscenza insomma eh noi stiamo cerchiando di lavorare in continuazione con le cose fatte lo scorso anno intorno alla definizione di un'altra agenda alternativa Roberto puoi migliorare il l'audio? No non lo posso migliorare ah ok ok quando siamo in videoconferenza con il telefonino è limitata insomma eh stavo dicendo eh che abbiamo messo in campo una progettualità intorno eh al tema della conoscenza e e abbiamo l'idea di lavorare a una specie di definizione di una indice della democraticità della conoscenza eh su vari aspetti molteplici aspetti e naturalmente il digitale è un elemento trasversale a tutti questi aspetti perché si tratta della conoscenza formativa informativa tecnologica negli ambiti lavorativi eh negli ambiti democratici eccetera eccetera e quindi questa è una prima questione eh che penso dovremo provare a a costruire precisamente una capacità di eh di lavorare insieme di utilizzare le energie e le intelligenze che abbiamo. La seconda eh che un po' do una domanda è un tema e che pongo anche a Roberto e a noi tutti eh sempre intorno eh al lavoro di Riccardo Petrella abbiamo definito questa categoria categoria dei dominanti come categoria trasversale eh che dà una nuova eh significanza anche all'esercizio del potere. Eh insomma stiamo tra democrature, autoritarismi, autocrazie, tecnocrazie, insomma eh queste varie eh denominazioni del potere dei dominanti eh sono molto articolate intorno al controllo della conoscenza dalle tecnologie e all'uso del digital. E la questione che mi si pone e che pongo a noi tutti eh al di là di misurare eh come eh le loro guerre siano eh eh attraversate dall'uso di queste eh tecnologie in buona parte Roberto l'ha fatto nell'introduzione ma credo che probabilmente dovremmo cercare di capire ancora meglio insomma che per esempio questa guerra che ormai è evidentemente una guerra mondiale eh giocata su vari punti di scacchiera di cui quello militare è un aspetto ma gli altri sono quelli di geopolitici, economici, eh finanziari con previsione di scenari eh che che tipo di intelligenza di dominio avete in campo eh preparate come da quando e e e con quale eh obiettivi insomma ecco eh sicuramente questo è un elemento analitico importante ma dall'altra parte è che possiamo fare noi cioè noi che cosa siamo rispetto a questo il popolo della rete non so cioè quale capacità di eh di eh di di rapporto con i dominanti nell'uso delle tecnologie di conflitto noi riusciamo a esercitare eh dal nostro punto di vista un uso alternativo un controllo sociale e popolare uso parole vecchie insomma eh io mi immagino che che tutte le mosse della guerra siano studiate a tavolino oramai è talmente evidente è una guerra anche spettacolarizzata è impressionante no? Eh nella sua spettacolarizzazione laddove poi invece sono morti in carne ed ossa e quindi eh elementi tragici ecco il tema eh diciamo del di come si esercita la rivolta la rivoluzione rispetto a questa questione dei dominanti eh data questa struttura delle tecnologie legate al dominio mi pare un tema che vorrei trovare a cimentarci eccoci grazie Roberto so se ci sono altri ehm sono Michela mi sentite? sì eccoci mi ero prenotata via chat però no scusami sono senza microfono quindi sto parlando col microfono incorporato nel tele nel computer si sente bene? benissimo ok io mh non ho nessuna contestazione volevo fare solo qualche riflessione su quello che significa la digitalizzazione per le persone normali cioè per il normale rapporto la digitalizzazione della pubblica amministrazione per esempio nel normale rapporto del cittadino con lo Stato perché eh purtroppo al netto dei eh proclami e delle diciamo della volontà di semplificazione in effetti il rapporto si è complicato molto e non solo per il gap di digitalizzazione ehm in relazione all'età ovviamente le persone di età più avanzata hanno grandi difficoltà ad utilizzare strumenti eh digitali ma anche per la scarsità di controllo che ormai i dipendenti e gli operatori della pubblica amministrazione hanno sui processi nel senso che quando i processi sono governati da algoritmi o da programmi su cui l'operatore non ha alcuna ehm alcuna possibilità di intervenire purtroppo anche nella pratica si è ehm si è schiavi di chi ha scritto il programma che molto spesso non ha niente a che vedere con non ha non conosce eh le determinati procedimenti eccetera eccetera porto qualche esempio quando si vanno a fare delle richieste per i cittadini mi eh mi capita di lavorare molto con i richiedenti asilo quando si vanno a fare delle richieste per i richiedenti asilo all'ASL o cose del genere manca nel programma che eh attribuisce i codici fiscali una spunta specifica no? Che che permetta di portare avanti l'operazione anche se il mh soggetto non ha una residenza ma solo un domicilio eletto non avendo questa possibilità il programma è impossibile risolvere allo sportello queste cose noi siamo costretti ogni volta a fare delle diffide as l'ASL che poi fa inserire dai suoi tecnici responsabili informatici l'informazione e risolve ma non è che è in grado poi di intervenire sul software sull'algoritmo del software che molto spesso è anche proprietario per cui non ha anche eh non ha neanche la possibilità giuridica di intervenire io credo che questa sia una cosa molto importante ossia la proprietà dei software che utilizza la pubblica amministrazione l'accessibilità dell'algoritmo che deve essere assolutamente visibile e controllabile da chiunque abbia gli strumenti cioè da chiunque sappia leggere ehm sappia leggere eh un algoritmo e ehm soprattutto non abbandonare completamente nei rapporti tra Stato e cittadino le i presidi territoriali fisici perché è anche questo che allontana molto ehm la comunità dall'istituzione il fatto di non avere la possibilità di interfacciarsi perché ormai l'impiegato l'amministratore o chiunque sia ti diceva beh ma io non posso fare niente del programma e chi l'ha scritto questo programma boh è incredibile e e a questo proposito passo da palo in frasca sottolineando la pericolosità dei del tentativo che si sta compiendo a livello internazionale di trasferire il procedimento giurisdizionale su algoritmo cioè il tentativo di digitalizzare la giustizia soprattutto per quel che riguarda le questioni commerciali affidandola ad algoritmi e software di intelligenza artificiale che lavorino sulla base di smart contract e ehm monete digitali eh eccetera eccetera perché di fatto si ehm si crea una una giurisdizione alternativa su cui gli operatori del diritto come gli avvocati non hanno alcuna alcuna possibilità di controllo io non sono in grado di verificare l'affidabilità di uno smart contract perché non so leggere gli algoritmi no? Devo soltanto fidarmi dell'output che il programma mi ehm mi 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 offre e e e quindi si crea un assolutamente in direzione contraria alla trasparenza dell'amministrazione, alla trasparenza dei procedimenti amministrativi eccetera eccetera si crea una vera e propria zona di buio e qui mi chiudo e vi ringrazio. Grazie Michele. Raccogliamo qualche altra. Sì posso? Vai Franco. Sì no vorrei far ringrazio. Scusate ma consenti accesso. Non so perché faccio sempre questo scritto. No io ho solo due domande ovviamente non pretendo essendo due domande credo abbastanza impegnative da che Roberto Rosso risponda eh esaurientemente stasera ma magari ci può dare delle indicazioni per approfondire i temi. eh ovviamente io parlo abbastanza da persona diciamo non addetta a questo tipo di 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 problemi quindi ho due grausse interrogativi. Il primo proprio che cosa significa sovranità digitale? Ehm proprio per esempio quando appunto l'Unione Europea dice bisogna recuperare la 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 sovranità digitale e cioè nel senso del controllo delle della gestione dei dati della produzione dei dati e se è questo visto che appunto le il controllo dei dati cioè la la l'acquisizione più che produzione dell'acquisizione dei dati e la gestione dei dati è nelle mani di imprese private e per di più statunitensi e questo mi pare che lo dicessero Roberto eh come 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 può l'Unione Europea o o diciamo così in generale una un'organizzazione politica uno Stato riconquistare questa sovranità digitale e e quindi si pone una questione di punto di pubblicizzazione di queste grandi imprese oppure ci sono altri strumenti per cui diciamo l'istituzione pubblica può comunque ehm raggiungere un suo controllo spero di essere stato chiaro ma insomma la vicenda è cosa di personalità e la seconda è questa ovviamente ancora più complicata perché abbraccia diciamo così eh alcuni decenni di rivoluzione innovativa dei processi del lavoro come continua a incidere diciamo così la la digitalizzazione dei processi produttivi e fondamentalmente in cosa secondo te ovviamente ripeto non 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 chiedo a te o a chi o chi mi ascolta come Alessandro ehm in che consiste fondamentalmente in questa fase storica la rivoluzione digitale nelle imprese e l'organizzazione del lavoro sia delle imprese industriali sia delle imprese dei 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 servizi ma anche ho letto alcuni servizi giornalistici anche all'interno dell'agricoltura quindi secondo te in che cosa si potrebbe riassumere questa nuova fase di rivoluzione industriale dovuta alla digitalizzazione grazie mille grazie a te Franco ci sono altri Alessandro ma diciamo che mi venivano in mente due due cose alle tante cose che ha detto Roberto di cui ha parlato Roberto una è questo discorso appunto della forza lavoro che è tendenzialmente invisibile e che però è necessaria perché poi tutto il meccanismo funzioni è questa forza lavoro sottopagata e ehm quindi dietro c'è un processo ad alte intensità di lavoro in realtà che eh come sempre diciamo tende a essere nascosto no quindi poi non siamo consapevoli tutto questo nello stesso tempo c'è il paradosso dall'altra parte che adesso ormai cominciano a esserci alcune fabbriche eh io per esempio mi ricordo una fabbrica fatta da non mi ricordo se i tavanesi eh negli Stati Uniti eh totalmente automatizzata per produrre abbigliamento in particolare magliette eh dove non c'è dove ci sono solo i manutentori sostanzialmente delle macchine e il processo produttivo è totalmente è totalmente automatizzato eh l'altra cosa che che mi che mi veniva in mente è questo discorso della guerra eh perché eh io avevo scritto un po' di tempo fa sulla scia di quello che era successo in in Afghanistan quando eh utilizzando dei droni vennero fatti fuori una decina di persone che eh diciamo insomma l'intelligenza americana considerava essere dei pericolosi attentatori potenziali e poi si scoprì che invece uno lavorava per un'organizzazione umanitaria e c'erano anche i figli più piccoli insomma quindi ecco ora eh il tema diventa quello di come che tipo di guerre si vanno a combattere rispetto a un passato dove c'era un confronto direttamente tra delle forze in campo no ecco che erano tendenzialmente degli umani poi c'erano certo gli strumenti i veicoli corazzati per carità però qui si crea uno uno squilibrio assurdo dove in sostanza la guerra viene combattuta attraverso delle tecnologie quindi i droni piuttosto che altre i satelliti e tutto il resto e nella sostanza non c'è c'è un rapporto asimmetrico totalmente rispetto agli umani che stanno sul terreno e che si vedano arrivare i missili addosso insomma no e mentre chi comanda questi questi meccanismi questi eh processi utilizzando appunto gli algoritmi sta dentro una cabina di energia digitale e e muove dei joystick no e e quindi in sostanza è impossibile eh come dire dall'altra parte poter rispondere in qualche modo no e quindi c'è una simmetria totale e nello stesso tempo mi domando anche rispetto a tutto il processo che nelle guerre avviene che è quello dell'empatia no cioè uno combatte mentre invece qui è chiaro che eh e vede gli altri vede il potenziale quello che gli può sparare addosso piuttosto quello che a cui sparare invece qui in sostanza chi chi gestisce questo tipo di di processo militare nella sostanza sta chiuso a migliaia di chilometri dentro un bunker magari no e sapendo che lui non potrà mai essere come dire colpito e questo ora qui c'è un tema ovviamente di come in tutto il tema del del digitale di regolamentazione di tutto di tutte queste cose perché eh sì cioè sappiamo benissimo che ci sono come è successo con le armi nucleari a un certo punto si può decidere di costruire dei trattati e di mettere fuori legge l'uso che ne so eh dei missili a lungo raggio piuttosto no ne abbiamo avuti ancora qualcosa è rimasto eh e lo stesso vale per tutto il resto giustamente eh Roberto diceva l'Unione Europea si è dato ad affare ha cercato almeno rispetto al tema per esempio dei dati della gestione dei dati della privacy oppure di pratiche che eh Amazon e altri altri Google utilizzano no ha fatto ha messo delle multe miliardarie multe miliardarie ecco poi eh ovviamente non è questa la soluzione perché al limite Amazon e Google sono disposti anche a pagare la multa basta che non si cambiano le regole ecco insomma del gioco no per cui poi fra sei mesi si fa un'altra multa ma nel frattempo questi hanno attraverso quei sistemi che abbiamo abbiamo studiato anche no di paradisi fiscali eccetera riescono a a a come dire a a estrarre un'enorme quantità di capitali da dall'Europa e portarsene nei paradisi fiscali senza pagare una un euro di tasse insomma no scusate sono stato lungo no grazie non so se ci sono altri altrimenti do la parola a Roberto per replica direi sempre il solito colpo di tosse ma direi che sono le tutte le domande giuste no che approfondiscono quello che ci stava che non ci stava nella mezz'ora io eh io partirei da quello che diceva Michela che è che perché poi è è è è è è fondamentale rispetto poi anche le altre questioni eh io ho lavorato un po' con la Pia e per esempio ho un forte rapporto come cittadino in quanto eh lotte ambientalisti nella Valle del Sacco per per avere informazioni e per partecipare alle conferenze dei servizi e eccetera che ne so partecipare per due anni alla conferenza dei servizi per definire i i i i i i confini del sito di interesse nazionale del fiume Sacco è un'esperienza mistica voglio dire in cui tu ti rendi conto del del livello di condivisione di conoscenza nelle eh amministrazioni perché lì c'erano ovviamente privati associazioni e e amministrazioni molti comuni della Valle del Sacco andavano documento con la documentazione che era costituita dai comunicati della mia associazione la rete per la tutela Valle del Sacco cioè loro non avevano informazioni interne non avevano informazioni da regione del ministero loro avevano raccolto i nostri comunicati e in maniera molto intelligente li avevano messi assieme questo è un tipico esempio no? Allora io poi in passato ho lavorato per una società che forniva eh rassegne stampa alla rete attraverso la rete pubblica la rete informatica dei ministeri adesso non so come si chiama e lì ho scoperto tutti quanti i vari livelli eccetera a parte che ho conosciuto delle delle persone di una straordinaria competenza spero ci siano ancora alcuni più anziani spero siano in pensione però il il problema è chiaro il il rapporto stato cittadino è ovviamente al cuore noi abbiamo costruito eh un foglio cosiddetto Freedom of Information Act il nome è quello è è è l'atto fatto emesso da Obama negli Stati Uniti cioè tutta la legislazione italiana che dovrebbe permettere a qualsiasi cittadino di informarsi di avere l'informazione su ciò che è che sono gli atti pubblici e la pubblica amministrazione a parte che tutto dovrebbe essere proattivo cioè della serie me la dovete mettere a disposizione io la devo leggere che se io chiedo l'informazione e mi scaricate una e poi noi interpretiamo eh faldoni e faldoni di informazione evidentemente tra nella missione dell'amministrazione non ci sta quello di informare il cittadino cioè quello che noi facciamo come associazioni cioè noi traduciamo al cittadino ciò che fa la pubblica amministrazione e i privati eccetera nel contesto di di quanto accade dovrebbe essere uno scopo della del dello Stato per per avere una effettiva democrazia cioè la condivisione della demo della conoscenza e e qui andiamo a quello che diceva che diceva Musacchio e e e fondamentale ma ovviamente noi sappiamo che non è che te lo devo chiedere no o eh è come il problema della partecipazione che non si può ridurre al fatto che vada a votare ogni cinque anni a quanto è ma tu mi devi mettere mi devi rendere protagonista della vita pubblica se questo non accade tu puoi mettere tutte le leggi sull'accesso ma ovviamente il cittadino anche perché il cittadino deve essere educato e formato il settore sanitario poi è particolarmente debole io lavoro eh come associazione sul rapporto salute ambiente produzione e quant'altro evidente che lì il problema è che il cittadino sia il protagonista e sappia sia educato a sapere e conoscere della propria salute individuale collettiva e del contesto in cui questa viene difesa si sviluppa e quant'altro ma è tutto deve essere attivo non deve essere passivo da parte dello stato quindi eh ovviamente sui richiedenti asilo me lo posso immaginare nello specifico come sono fatti i programmi allora chi fa informatica dovrebbe ci sono gli esperti di usabilità cioè io ho fatto una sarà un po' lungo nella mia risposta che gli esempi servono non lunghissimo Moria mi ha già guardato malissimo cioè voglio dire io il passaggio dall'interfaccia a quella a carattere a quella grafica in una vent'anni fa e oltre in una sede dell'ACI di Milano io ho fatto esercitare gli impiegati per due o tre giorni sull'uso del mouse semplicemente per fare la login perché questi non ci arrivavano per dire una sciocchezza allora il problema dell'usabilità è un problema generale cioè il dispositivo digitale deve essere eh come dire come l'aria i chi sviluppa oggi i programmi c'è una mentalità del cavolo per non per non usare che è analoga a quella di eh del committente per il committente vero il cittadino e il lavoratore non è il dirigente o l'apparato in senso in senso astratto questa cosa non esiste ovviamente l'analisi può essere fatta male no quando un'azienda un'organizzazione chiede un software c'è la fase di analisi chi fa l'analisi come chi gestisce normalmente è uno che deve interpretare un testo sanscrito cioè sostanzialmente deve riuscire a andare oltre i pregiudizi di chi gli descrive l'organizzazione per capire come l'organizzazione funziona davvero ma l'organizzazione eh tutti citano il termine stakeholder le parti in causa sostanzialmente l'organizzazione sono tutti coloro i quali in un modo o nell'altro hanno bisogno di accedere ai dati di quella roba lì allora è evidente che tu devi capire chi sono coloro i quali avranno al centro ci sta il fatto che se come dicevamo all'inizio lo Stato la pubblica amministrazione non è il protagonista attivo dell'emancipazione del eh del cittadino e della condivisione della conoscenza e di fare del cittadino un soggetto attivo è chiaro che il so il committente non farà mai fare un'analisi fatta bene ci saranno delle analisi sempre piene di buchi può arrivare anche l'analista più più bravo del mondo sgamato che fa quel mestiere da tanto che interpreta anche come dire la comunicazione non verbale dell'interlocutore io l'ho fatto eh non non credete che non si faccia questa roba qua perché veramente un esercizio da 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 roba spiritistica però anche se è bravo quello non non esprime il progetto reale perché ha in mente altre cose per cui ovviamente si dimentica che richiedente asilo non c'ha non c'ha la non c'ha la residenza vera dopodiché si arriva al fatto che il software lo stato non produce il software cioè voglio dire io ho un'amica che lavora a lì qui istituto centrale per il catalogo unico alla che ha sede per la biblioteca nazionale di Roma loro hanno un software gratuito per le biblioteche non viene viene utilizzato in solo in parte cioè evidentemente la 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 qui è evidente che la conoscenza la conoscenza come bene comune è un dato operativo è un dato di organizzazione non è un dato astratto generico ovviamente è lo stato ovviamente arriviamo o è succube dei dominanti o è è una democratura o evidentemente è democrazia vera partecipata perché poi la la mettere a disposizione l'informazione in maniera proattiva stimola l'organizzazione della partecipazione cioè tutti i livelli intermedi tra il singolo soggetto che sia individuo di impresa o quant'altro e e e e lo stato nelle sue varie forme decentrate pubblica amministrazione quant'altro cioè in questo caso il digitale ovviamente in questo momento essendo il medium inevitabile diventa eh la cartina di tornasole del processo democratico e però o lo vedi in questa maniera o se no eh sei fottuto non non c'è nessuna possibilità ed è chiaro che il rapporto tra il reale il virtuale il presidio territoriale eccetera il rapporto col medico che come dire non mi visita mi guardami e per dire per fare un esempio è fondamentale dopodiché si arriva appunto allo smart contact per quanto riguarda il civile il diritto il diritto civile i contratti eccetera perché in buona sostanza lì tutto quanto è procedura e lì arriviamo anche al discorso al discorso della digitalizzazione dei processi produttivi è digitalizzabile tutto quello che è procedura no tutto quello che può diventare un flusso un flusso con dei 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 degli step di controllo che mi fanno dire vai di qui o vai di là mi entra un parametro se a quel punto mi entra il parametro il parametro è a b o c o d farò una cosa o l'altro l'altra ancora laddove nei processi produttivi eh ovviamente non sono possono essere parametri astratti se sto parlando di una di un di un processo organizzativo come può essere o di un processo decisionale o sono sono i sensori cioè oggi io posso automatizzare tutto ciò per cui il un processo un'attività e il rapporto col suo contesto e le eccezioni le posso governare col minimo del rischio si dice quando si fa un programma che il la gestione delle eccezioni che dovrebbero essere una parte infinitesima ovviamente eh prendono il trenta per cento del lavoro perché perché se io non governo l'eccezione e succede un disastro pago un prezzo altissimo allora io digitalizzo automatizzo tutto quello che riesco a eh a governare a partire dal fatto che che ho gli input dal processo stesso cioè eh il pezzo eh ciò che è strettamente processo produttivo in senso stretto e ciò che mi sta attorno cioè se eh se cade la eh la corrente elettrica cosa devo fare se c'è il terremoto cosa c'è le eccezioni gli eventi straordinari eccetera da questo punto di vista è come dire eh eh la eh la riduzione del rischio perché la riduzione assoluta del rischio non c'è mai perché ci sono anche i tempi di vita di qualsiasi dispositivo no no il pezzo di polvere la questione però io riduco il rischio no oggi la nozione di rischio è al centro di tutte le procedure io faccio anche certificazione di qualità oggi il problema non è che le procedure siano osservate ma che le procedure in maniera pedisseca ma che le procedure servano a a governare il rischio perché noi siamo nella società del rischio allora l'informazione la digitalizzazione deve operare riducendo il rischio al minimo estraendo in tempo reale l'informazione governando quindi i processi questa è la definizione generale da questo punto di vista ovviamente se io devo devo dare senso a che come come classifico l'immagine che io di Alessandro Scasselati che sta che che vedo in questa immagine se qualcuno non ci mette un'etichetta la mia la mia intelligenza artificiale che sta ragionando su questa nostro confronto non riesce a intervenire da cui il fatto che c'è una marea di lavoro vivo sottopagato che in realtà che in realtà è lì per per fornire con l'informazione che che i processi automatizzati non riescono a poi vabbè sull'intelligenza artificiale ci sarebbe da dire perché c'era all'inizio l'intelligenza artificiale era l'algoritmo inteso come definizione di processi logici l'altro invece è estrazione di dati in maniera quasi statistica cioè ci sono diverse metodologie ma lì entriamo nella storia dei processi di analisi il quindi la sovranità digitale quindi la sovranità digitale ovviamente fatta è fatta delle componenti che si che 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 emergono da quanto dicevamo cioè la capacità contemporanea perché eh io non posso sviluppare algoritmi che eh lavorano sui big data se non ho i big data a disposizione quindi io devo poter eh avere tanti e dopodiché divento un circolo virtuoso più tratto eh dati e più sviluppo algoritmi più sviluppo algoritmi più avrò dati da trattare no eh chiaramente quindi è un processo in buona sostanza di concentrazione sempre maggiore quindi il problema che avevamo del pubblico della partecipazione della democrazia e della sovranità digitale coincidono quindi il bene e la conoscenza come bene comune e la possibilità di contrastare i dominanti dove i dominanti ovviamente eh non hanno sono sono diventati una preoccupazione per quella eh per lo Stato inteso come come Stato profondo e reale cioè democrazia reale cioè quella roba che si è autonomizzato poi dalla volontà dei cittadini che 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 è che classe dirigente autonoma e quant'altro io dicevo prima che eh se mettiamo le grandi società digitale tra i dominanti eh gli stati in diversa forma sono entrati in conflitto negli Stati Uniti in Europa e in Cina per dire poi ripeto ogni regime politico agito a modo suo la Cina ovviamente è andata a Giura dicendo e al famoso Jack Ma che era uno che ha una serie di società stava diventando troppo potente gli hanno tagliato le gambe e nel giro di ventiquattro ore no per dire quindi lì però hanno altri strumenti che diversi da quelle che abbiamo da noi ovviamente rispetto a quello che è lo Stato profondo c'è Assange ovviamente dove Assange ovviamente rispetto a quella che è la condivisione della conoscenza ha fatto qualche sgarbo allo Stato degli USA e e la sta pagando quindi è evidente che le le vostre domande si legano da questo punto di vista uno dei dibattiti fondamentali sull'intelligenza artificiale è la sua affidabilità e la sua eticità perché i regolamenti che diciamo le norme gli studi che a livello di Unione Europea di Commissione e di Parlamento Europeo si stanno facendo sull'intelligenza artificiale definiscono l'intelligenza artificiale con quattro livelli di rischio il quarto livello ovviamente della serie eh niente non non è attuabile no perché perché è implicito il livello di rischio nell'intelligenza artificiale innanzitutto perché è un soggetto autonomo e e non è un soggetto eh rispetto al quale eh totalmente il cui comportamento sia totalmente predittivo altrimenti non sarebbe una roba a cui noi in maniera più o meno retorica diamo l'attributo di intelligente poi vai a vedere bene esattamente però ha una sua capacità di elaborazione dei dati e soprattutto di prendere decisioni perché se soprattutto anche perché poi i dati che elabora anche se poi c'è un decisore a valle però se questo decisore a valle agisce in base a una configurazione di informazioni che deve prendere per buona lì c'è poco da fare ecco quindi la definizione del rischio però anche lì è un è abbastanza è è un work in progress è un lavoro in 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 divenire proprio perché eh eh io in un articolo gli ho detto in realtà la mia impressione ma non è la mia in particolare è che i regolatori corrano dietro siano in coda al processo di innovazione tecnologica non siano avanguardia questo dipende anche dal fatto che la soggettività tecnologica chiamiamo così non sta nello Stato non sta nel pubblico ma sta nel privato nel soggetto che devi regolare e eh se il soggetto che devi regolare ha come logica il profitto e invece le logiche pubbliche partecipative non hanno lo stesso potere di eh innovazione tecnologica e lì sei sei il rapporto di forza il rapporto di forza è il tuo sfavore quindi le 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 domande che voi fate che sono ovviamente le le domande le domande fondamentali eh si sono si 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 mordono si mordono si collegano l'una all'altra inevitabilmente e anche il fatto se si possiamo fare la rivolta la rivoluzione o cosa possiamo fare per una per un certo periodo c'è chi ha teorizzato il fatto che i lavoratori del digitale richiamavano cognitariato avessero oggi lo stesso ruolo che aveva l'operaio massa nel periodo fordista purtroppo i rapporti strutturali non sono proprio la stessa cosa e anche la dimensione ideologica i bisogni e la e e non funziona così però non non c'è dubbio che o o noi non odiamo l'assalto alla democrazia eh e e alla forma dello stato attuale eh e e all'uso del digitale e alla privatizzazione di ogni forma di conoscenza o eh o se no eh o non ne usciamo da questo punto di vista è chiaro che eh la stratificazione nella nelle forme di conoscenza eh l'alfabetizzazione non solo digitale ma proprio cognitiva oserei dire non a caso i cinesi parlano di 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 vantaggio cognitivo nella guerra eh è tale che manca la motivazione a un certo punto al cittadino no? I cinque stelle nascevano su questa utopia un po' stracciona del fatto che il digitale di per sé è il eh salta la mediazione e e col con un click con un click governiamo in realtà con un click è proprio con un click che siamo fottuti questo è il problema è proprio il click che ci sta fottendo quindi bisogna un po' ragionare sul contesto nel quale siamo eh facendo click eh chiudo davvero eh poi in realtà di materiali ce ne sono tanti il il problema di umanizzazione e disumanizzazione di cui parlava di cui parlava Alessandro in realtà dietro a questo processo soprattutto poi nella guerra l'umanizzazione c'è sempre perché è vero che questi usano i droni e c'è una gerarchia c'è una gerarchia tra chi sta a una sala nel Texas e usa il il joystick per governare il drone e chi invece e chi invece deve andare sul campo usare il kalashnikov o quant'altro e e vedesse la faccia a faccia non siamo più alla guerra di di trincea poi con il famoso Natale in cui sono usciti e hanno brindato assieme francesi e tedeschi se non ricordo male però il problema è che in realtà c'è una netta separazione c'è una gerarchia tra chi si deve mettere la faccia il culo come dice la canzone le viscere o quelle mani o quant'altro e chi invece se ne sta dietro sta tranquillo c'è magari pure l'aria condizionata e questo fa parte tra come tra chi subisce il cambiamento climatico e chi invece si mette finché può al 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 riparo del cambiamento climatico è una logica di di separazione di stratificazione neodarwinista che il digitale tende a governare non è una logica mentre invece il discorso che fa petrella sulla condivisione della conoscenza che fa da sempre voglio dire da quando lo conosco ovviamente è esattamente il riba il ribaltamento di questa logica neodarwinista per cui mentre mentre faccio la guerra al venezuela c'è un po' di ragazzi venezuelani che lavorano per me per taggare le immagini o lo stessa cosa nei robi mentre fanno la fame o nel campo o addirittura nel campo profughi in in Iraq o in Sirio o quant'altro perché poi i giovani i giovani acculturati ci sono da dappertutto e li vado a trovare anche nel campo profughi per fargli fare quel lavoro che poi gestisco gestisco alla Silicon Valley o non so ecco questi la questione è abbastanza circolare come si usa dire e è troppo grossa per chiunque e penso che 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 dalla collaborazione possa emergere una strategia chiudo davvero dicendo che che le le esperienze che io ho fatto negli ultimi personalmente negli ultimi vent'anni nei tentativi di di costruire movimento la giusale digitale nel movimento e anche di costruire schieramento organizzazione direttamente politica e interna poi al confronto al confronto elettorale con queste questioni non è riuscita a farci i conti in maniera adeguata e in maniera radicata penso appunto al cittadino al lavoratore della pubblica amministrazione eccetera eccetera forse tocca tocca appunto coinvolgersi reciprocamente e mischiare l'esperienza insomma questo l'obiettivo mio in queste cose un pochino questo grazie roberto grazie a tutti è evidente che non non si esaurisce una chiacchierata tra di noi la questione e ci sono aspetti appunto che investono talmente tante cose che non è possibile affrontarli tutti con la dovuta dovuto approfondimento però mi sembra che un ragionamento che roberto ci poneva sia del tutto condivisibile quindi noi continuiamo continueremo anche sul trasto non sia come osservatore a seguire gli aspetti del digitale soprattutto in relazione a quello che gli aspetti istituzionali dell'unione europea la capacità di un protagonismo europeo che secondo me deve essere collegato a un protagonismo sociale quindi movimenti sindacati dovrebbero costruire un'alleanza per poter arrivare a un vero una vera sovranità digitale come diceva Roberto che non è soltanto una struttura materiale ma anche una capacità di intervento di gestire la politica di fare politica industriale sociale e in quanta comunicativa dell'europa che finora non c'è e quindi questo aspetto secondo me è uno degli aspetti che come osservatorio potrebbe interessarci di più nella definizione dei prossimi appuntamenti intanto ringrazio ancora tutti sapete che su transform troverete da domani anche il video di questo incontro e soprattutto materiali e articoli che fanno riferimento a questo tema e che come ha detto è un tema che è talmente ampio che investe aspetti della vita quotidiana di tutti noi e ricordo soltanto che il 24 abbiamo un altro appuntamento ea cui parteciperà aperto musacchio sul futuro dell'europa il percorso costruito per scandire un processo della unificazione dell'europa che anche qui ha usato digitale per poter far dialogare cittadini e istituzioni ma forse anche lì qualche ragionamento qualche qualche elemento di critica potrebbe venire fuori intanto grazie 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 ancora a tutti a tutte e ci ci aggiorniamo ci vediamo alla prossima e grazie di aver partecipato a questo incontro grazie a roberto per il lungo eloquente reso conto grazie a tutti